3,2,1 Good morning! Regà io direi di iniziare il vlog in bellezza con un mini prank a max, andiamo, andiamo! Allora regà, ora prendo una sottile acqua e gliela spiace con questa Secondo te si incazza? Sì, fa Dici che si incazza? 3,2,1 Allora Giulio mi ha appena lasciato un bacino e farò finta che me l'ha dato lei Io sto con Cree, dato che Cree pure è geloso di me, io andrò da Cree e farò finta che lei mi ha dato un bacio E vediamo la sua reazione Secondo te si prende male? Si Si? Ammazza Rode, andiamo lì, andiamo Andiamo Cree, c'è un problemino Mi ha dato un bacio No, è una giucca Ma ti prende pure? No, no, no Mi cagare che non è? Guardate quello, però qua ho poverito Andiamo via Ah mi fai dice così Non, no, no, no Mi fai dice così Però poverino, non mi ha fuggita Non bacio ai miei ragazzi No, proprio, proprio Poi chiamare Max No, non dico vado alzato le mani per qualcosa ho lasciato un bacio sulla guancia non stava con te lei questa è la mia donna ma lei ha baciato me io ho baciato lei questa è la mia donna che cazzo fai scusa ma ammazzo guardate è finita c'è una merda comunque dato che ancora lei non ha un nome scrivete tutti nei commenti un nome da consigliarle ah bro non so se sai che momento è stavo gioco a calcio ah bro è il momento migliore nel mio vlog sai chi sta per arrivare ho la meta sulle palle è il momento di hashtag danila cavalla no mi sta sulle palle ma io lo faccio hashtag danila cavalla ma dani ma dani si è cagato addosso doveva dirti una cosa in faccia comunque raga non so se voi l'avete notato ma in sti giorni danila cavalla è un pochino depresso è sempre lì nell'angolino da solo ora ve lo faccio vedere raga raga adesso è nascosto dentro sta casetta che piange ma non so per quale motivo ah bro è casa mia asci ah è casa tu scusa 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 ciao se siete arrivati a questo punto del video commentate con brisida sono giapponese allora raga oggi ho intenzione di fare uno scherzo ad alberico però ho bisogno di sua sorella quindi adesso andrò a chiamare virginia spero accetti prima di tutto perché se accetta sto video viene veramente una bomba ora vado a cercarla oi virgi 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 vieni un attimo ti devo chiedere una cosa per favore allora io voglio fare uno scherzo a tuo fratello e tu mi devi aiutare per forza allora in pratica voglio tipo fare una scena dove io ti insulterò un botto e in qualche modo faremo arrivare tuo fratello e vediamo come reagirà lui scusa si incazza o no? beh infatti perché il suo fratello è abbastanza irascibile e soprattutto se le tocchi la sorella quindi devo stare un po' attento andiamo a farlo va? vai raga Davide è d'accordo con me e ora andrà a chiamare alber appena io le inizio a morlare via no 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 si crede poi hai preso pure il fratello hai preso cioè prendiamo il coglionito sorella di coglionita no stai qua fermati qua adesso ma ora prendi e stai qua senti va a farmi cosa? ma dove cazzo sta andando stai coglionita? ma cosa è successo? che è successo? che è successo? e non lo so a me se sta andando stai ritardato no ti fai cazzare io ti fai cazzare io ti fai cazzare io non te cazzo mi fai cazzare di essere cazzo mi fai cazzare di essere ma te non la conosci meglio di me si ma la conosci meglio di me si ma ti calmi con le parole mi calmo si ma non panico c'è si ma se io dico di fare una cosa e lei non l'ha fatto ho capito ho un cazzo ma non mi calmo un cazzo non mi calmo un cazzo perchè è tantata è tantata e quanto probabilmente ha preso ho preso mi cazzo mi dissolvo veramente raga ma tu ti rispondo perchè mi stai sul cazzo non ti avvicinare è una questione non mi faccio i coglioni è una questione tra me e lei non tra me e te ok e se non mi faccio le mani la rega a lei hai fatito basta basta ma te fai cazzare per quanto hai in coglioni da tua sorella hai finito no 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 mi stai facendo i coglioni mi stai facendo i coglioni pure sta hai rotto il cazzo ho rotto il cazzo veramente no se non l'ha sbattito fra mi faccio in giro i coglioni basta fra basta mi faccio in giro i coglioni fra basta non so neanche per quale motivo se tu ragionassi per quale motivo se tu ragionassi per quale motivo che sei matto bro ma tu non sei normale non sei normale non sei normale non sei normale fra stessi fra stessi portalo via guarda che è meglio guarda ti gira il sasso raga ho preso uno schiaffone albe 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 è stato bravo allora io non puoi sembrare una persona violenta però mi ha fatto girare le palle comunque tutto quello che ho detto abbiamo detto non è assolutamente vero raga era solamente per lo scherzo tutto finto anche per te te lo dico scusamo ragazzi ora mi ha passato la bua hai fatto veramente alterazione oggi mi hai fatto proprio serio? allora l'ho fatto bene guarda ci hai sentito da giù mentre un lavato però pensavo stesse facendo una cosa a casa tutto bene quel che finisce bene giusto? giustissimo che bastarda allora raga con questo il video è finito spero che ti sia piaciuto lasciate qua sotto un bel like iscriviti al canale se ancora non siete iscritti seguitemi su instagram mi raccomando air.cenaro noi ci vediamo al prossimo video bella